È una proprietà molto importante, 30 ragazzi per 12 mesi che possono fare con l'Agurio, un'esperienza secondo me meravigliosa di crescita interiore, di approccio al mondo del volontariato, al mondo ambientale e sociale. Quindi il nostro invito è quello di, ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che non lavorano in uno studio, di presentarsi nella nostra sede in Viettoscana 111. Ci sono delle ragazze, le stesse ragazze che hanno fatto il servizio civile, che daranno una mano a chi vorrà di presentare la domanda. È un'opportunità secondo me da accogliere perché in questo momento difficile, anche dal punto di vista umano, impegnarsi nel mondo del volontariato è una cosa bellissima. Entro il 18 ottobre si chiuderà la fase burocratica, andremo poi alla selezione dei ragazzi che inizieranno il 1 dicembre per 12 mesi, ricordo. Ad oggi abbiamo 10 ragazzi del servizio civile regionale e abbiamo 10 ragazzi dell'Erasmus, del servizio civile europeo. Come detto, adesso 30 ragazzi nuovi della nostra regione, quindi posso far domanda a cittadini di Pesaro, di comuni limitrofi, più anche 10 ragazzi del servizio civile europeo, quindi una comunità di giovani che dà una mano alla città e alla comunità. La Gulliver in questi anni ha sempre partecipato ai bandi che la regione Marche ha messo in campo e in questo caso si parla di giovani, quindi un servizio civile rivolto ai giovani che consentirà a questi ragazzi di fare un'esperienza che durerà un anno. Avranno anche una minima indennità perché sei di circa di poco più di 400 euro al mese. L'Onus Gulliver non solo si rivolge ai giovani ma molto spesso utilizza per le proprie attività anche, come dire io, le chiamo le persone meno fortunate, cioè le persone che nel corso della loro vita hanno avuto dei problemi o con persone che comunque hanno un disagio dal punto di vista sociale o che hanno fatto, come dire, degli errori durante il loro percorso di vita. Quindi la Gulliver oltre a svolgere una funzione, un'attività che è importante perché ricordo che recuperano e riutilizzano quelli che sono i prodotti, vedo qui siamo dentro il loro capannone, qui viene venduto quello che normalmente veniva buttato via e vengono probabilmente utilizzati molto spesso dalle persone che non hanno capacità economica per potersi rivolgere al mercato normale, cioè poter andare in un negozio. Come abbiamo visto in questi ultimi anni, soprattutto con l'emergenza Covid, il problema che probabilmente esisteva già da prima ma che si è acuito molto di più, è quello di dare una risposta ai nostri giovani. In questo momento hanno loro bisogno di un aiuto e di un sostegno da parte nostra, da parte di tutte le istituzioni. Questa è un'opportunità che non è la soluzione, ma una delle tante soluzioni. Io spero che, parlo per il Comune di Tavuglia, insomma i giovani recepiscono l'opportunità che gli viene data e la prendono al balzo. Sì, anche a Montellabate come amministrazione siamo lieti di partecipare a questa iniziativa in quanto ha una triplice valenza positiva sia per l'associazione Gulliver che sta svolgendo un ottimo lavoro sul territorio, per le persone a cui è destinato questo servizio dell'associazione, ma anche per i giovani che, come è stato detto, vengono coinvolti in questa iniziativa in una fascia di età particolare che è quella che non studiano e non lavorano.